Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Signore e signori, ecco a voi la squadra vincita la Serie B-Fill 2011-2022! Antonio Poglietti Gianluca Caprari Novero di chiesa in te Ciro L'immobile Con il numero 19 Superbimbo Maglietto Con il numero 20 Andrea Maccienza Con il numero 22 Luca Maglia Con il numero 23 Punta Cuore Con il numero 24 Marco Matti 3 Con i numerati Dei Matti L'Ut Lice Con il numero 18 Marco Berrotta Con il numero 33 Loris Varchetti Con il numero 57 Francesco Annelani Marco K Un ringraziamento Il nostro staff Il nostro capitano per sempre La nostra bandiera Vincenzo Ducchini Il preparatore atletico Roberto Ferola E' un grande applauso per lui Il nostro allenatore Il preparatore dei bordieri Sempre con noi Franco Franco Mancini L'Un ringraziamento E' un ringraziamento E' un ringraziamento Il capitale è il numero 9, notto Sesso Vici! Un capitale! Un capitale! Un capitale! Un capitale! Un capitale! Un capitale! Ecco tutto nel cap! Un grande applauso! Un capitale! Un capitale! Un capitale! Il presidente della Lega di Serie B, Andrea Boni, consegna la Coppa a tutti! Un capitale! 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 Un capitale Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della vittoria 2011-2014. Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della Vittoria 2011-2014. Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della Vittoria 2011-2014. Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della Vittoria 2011-2014. Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della Vittoria 2011-2014. Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della Vittoria 2011-2014. Il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, confende alla Coppa Ani della Vittoria 2011-2014. una sola per queste cose è difficile fa 580 in via in mezzo da lì sta con preso il volo del palermo si muore e non la pensione dell'amore ahè, ahè, ahè bosca ahè, ahè bosca ahè, ahè, ahè bosca ahè, ahè, ahè ahè, ahè, ahè присcara atell oh 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 X cake oh X cake It's coté a ko Oh, oh, la macchina del centro Fai bene E via il mondo Ma anche vi è Via al centro Via al centro Grazie!